C'è permesso? Chi altro? Sorelli, questo giorno così delicato per tutti noi cercando di mantenere la dico più veloce la frase perché tanto che dè Candy Che peccato hai fatto? No Donnini, fate che non riesca a tirar fuori tutto quello che c'ho dentro Ho provato con le prugne, io do questo consiglio perché Ma tu sei fissato con le prugne, ma che c'è qualcuno che ha frutti vendoli? Mio fratello, frutti vendoli! Hai visto Luca? Contro le prugne, almeno aiutiamo la famiglia Ma Donnini, fa freddo qua dentro però Fa freddo, in questa parrocchia fa freddo Come fai la sera tu? Mi avvicino alla stufa e va E se fa più freddo? Che significa? Mi avvicino alla stufa E se fa freddo o freddo? Allora mi avvicino ancora di più alla stufa Si E se fa freddesimo proprio? Mi avvicino al massimo alla stufa Ma dai ci faccio freddo che stiamo sotto zero, come fai? In quel caso accendo Non ci altro, non posso fare spendere